Andiamo un attimo a prendere un altro esercizio. Vabbè, facciamo qualche esercizio. Allora, facciamo l'integrale triplo di x quadro in dx, dy, dz, su v, dove v è l'emissoide x, y, z, z, tali che x quadro su a quadro più y quadro su b quadro più z quadro su c quadro è uguale a 1. Ok? Allora. Ma non c'è questa la riservazione? Minore quasi. Sì, perché lui mette sempre delimitato da a, perciò ho scritto la testa a lui. Ok. Quindi, chi è questa cosa qui? Allora, qui ci conviene fare, dapprima la sostituzione x primo uguale x su a, y primo uguale y su b, z primo uguale z su c. Quindi, il mio solido diventa l'insieme degli x primo, y primo, z primo, tale che x primo quadro più y primo quadro più z primo quadro, minore o uguale a 1. e lo jacopiano dx primo, y primo, z primo, in dx, y, z è uguale alla matrice 1 su a, 1 su b, 1 su c e tutti i 0 fuori dalla diagonale. Quindi, qua mi viene l'integrale, questo solido qui lo descriviamo nelle variabili x primo, z primo, z primo, lo chiamiamo v primo. quindi viene l'integrale su v primo, adesso x quadro è uguale a a quadro x primo quadro per a, b, c in dx, dy, z è uguale a, b, c perché dovete scrivere qual è il cambiamento di coordinate gamma, e dovete applicare la formula di cambiamento di coordinate gamma, qua, senza stare a perdere tempo per capire se gamma gamma a meno 1, quindi se devo fare, se devo moltiplicare per abc o per 1 su abc, pensate al caso banale, che x quadro sia uguale a 1, cioè invece di x quadro di avere 1, e che quindi stiamo calcolando il volume, allora questa è l'elissoide di semiassi a, b e c, pensate al caso in cui a, b e c sono uguali, allora è la sfera di raggio a e il suo volume è 4 terzi pi greco a cubo, quindi qua nella sfera di raggio 1 il volume è 4 terzi pi greco e quindi vuole a cubo, quindi in generale qua c'è quella di c. Quindi certe volte non è necessario stare a mettere e scrivere nel dettaglio chi è gamma e chi è gamma meno 1, in questo caso il determinante è costante, quindi o è quello o è il reciproco, siccome da un caso banale si vede che deve essere questo, e è questo. Quindi a questo punto io che cosa ho? Ho, questa era dx, t, dy, z, b, quindi io ho a cubo, quindi in generale, se per esempio stavo calcolando il volume dell'elessorio e poi mi veniva 1, poi mi veniva 1 e quindi mi veniva 4 terzi pi greco a b c, quindi il volume dell'elessorio è 4 terzi pi greco a b c, per quanto riguarda invece questo integrale, io ho a cubo b c per l'integrale sulla sfera di centro origine e di raggio 1 di x quadro in dx del 0. Preferisco riportare di nuovo, togliere i primi, insomma, perché tanto non servono a niente. Allora, a questo punto, questo integrale come si fa? Non si fa in coordinate sferiche, non si fa in coordinate sferiche, si fa in coordinate cilindriche, ok? È più facile. Allora, la mia sfera in coordinate cilindriche, Allora, è x uguale a ρ cos t, y uguale a ρ sin t, z uguale a z. Allora, cosa devo fare? Siccome la mia sfera... Vabbè, quindi qua devo fare integrale in d z del ρ d z. Poi, lo jacobiano è ρ, e poi devo mettere gli estremi di integrazione. Prima la funzione che è ρ quadro coseno quadro di θ, e poi devo mettere gli estremi di integrazione. Prima mi conviene... Allora, come devo descrivere la mia sfera? Questa è la sfera unitaria. Allora, la mia zeta varia tra zeta e compresa tra meno radice di 1 meno ρ quadro e radice di 1 meno ρ quadro, ok? Quindi devo fare prima l'integrale in d z. Quindi devo fare questo integrale qua tra meno radice di 1 meno ρ quadro e la radice di 1 meno ρ quadro in d z. Poi devo fare l'integrale tra 0 e 2 di greco in d θ e l'integrale tra 0 e 1 in d ρ. Allora, quindi una volta fatto il primo integrale mi rimane l'integrale tra 0 e 1 in ρ, e l'integrale tra 0 e 2 di greco in d θ di 2 volte ρ cubo per la radice di 1 meno ρ quadro per coseno quadro di θ. Quest'integrale è... Scusate, è ρ e poi c'è θ. No, c'è θ. E poi c'è θ. E poi c'è θ. E poi c'è θ. E poi c'è θ. Adesso, quest'integrale si fattorizza, quindi questo viene l'integrale tra 0 e 2 di greco in d cos quadro θ in d θ per l'integrale tra 0 e 1 di 2 ρ cubo, ai 2 possono fare proprio fuori, di ρ cubo per la radice di 1 meno ρ quadro in d θ. Allora, questo viene 2, questo fa, sì, questo fa una metà di 2 di greco, quindi fa 2 di greco. E poi qua cosa devo fare? Pongo ρ cubo, vediamo un po', pongo ρ quadro uguale t. Allora qua ho l'integrale tra 0 e 1 di t per la radice di 1 meno t, poi d t è 2 ρ del ρ, quindi viene d t mezzi. No, ρ quadro faceva t e un altro ρ è assorbito da d t. Allora, se tu c'hai ρ quadro uguale t, 2 ρ del ρ uguale d t, quindi t di t mezzi fa ρ quadro. Quindi abbiamo π per questo integrale qua, allora ci conviene porre radice di 1 meno t uguale x, quindi 1 meno t uguale x quadro, quindi t uguale 1 meno x quadro, quindi d t uguale meno 2x dx, quindi radice di 1 meno t. Quindi quando t è uguale a 0 viene 1, quando t uguale a 1 viene 0. Poi ho la t che è 1 meno x quadro, che moltiplica meno 2x dx, quindi mi viene, ti greco per l'integrale tra 0 e 1, il meno lo uso per girare l'integrale, poi mi viene 2 lo porto fuori, e poi mi viene x meno x quadro, quindi x. Allora, questa integrale fa un mezzo, questa integrale fa un quarto, un mezzo meno un quarto fa un quarto, quindi viene pi greco mezzi. sono andato veloce perché qua, anche qualora ci sia un qualche errore domani, un errore subito, quindi rivedendovi, facilmente correggere, però il risultato, se vogliamo fare un controllo di tipo logico, noi che cosa abbiamo? abbiamo che sulla sfera, x quadro è compreso da 0 e 1, ok? Quindi sicuramente questo deve essere minore di 4 terzi di greco, e lo è. Ora, poi, diciamo che dovrebbe essere minore anche della metà, perché x quadro non cresce linearmente fino a 1, ma cresce sublinearmente, cioè sta sotto, ha un valore solo di x, ma poi anche perché la sfera non è un cilindro, quindi ha più materiale concentrato vicino a, diciamo, con la x piccola, e quindi pi greco mezzi ci può stare, e poi se abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, rifate l'esercizio, controllate, l'impostazione dell'esercizio è chiaramente questa, va bene, andiamo un attimo, vediamo se ne facciamo l'ultimo esercizio di oggi, facciamone un altro, quindi come avete visto, non usiamo le coordinate sferiche, praticamente le coordinate sferiche non si usano quasi mai, se vi ricordate, in analisi 1, quando ci sono gli integrali delle funzioni razionali di seno e coseno, si prova prima a porre tangente di x uguale a t, e se non funziona si prova a porre tangente di x mezzo uguale a t, perché seno e coseno si possono esprimere come funzioni razionali in funzione della tangente di x mezzo, senza perdere tempo, se vi ricordate, vi dissi allora che, provate sempre prima la sostituzione di tangente di x uguale a t, poi se non funziona, provate l'altra, anche in questo caso, in genere, non perdete tempo, e usate, quando avete volume, cioè cose che riguardano la sfera, o pezzi di sfera, eccetera, in cui sia ovvio passare in coordinate tipo polari in R2, se state in R3, pensate dapprima alle coordinate cilindriche, le coordinate sferiche, anche dopo aver provato le coordinate cilindriche, se incontrate problemi, dovete guardare bene di che tipo di problemi si tratta, perché per avere convenienza di usare le coordinate sferiche, dovete avere una simmetria sferica, non solo dell'insieme, ma anche della funzione integranda, cioè scambiando x, y, z, cioè se io facevo l'integrale di x quadro più y quadro più z quadro, sulla sfera unitaria, allora forse mi conveniva fare le coordinate sferiche, ma comunque, in quel caso, forse mi conveniva fare le coordinate sferiche. Allora, vediamone un altro, cambiamento di variabile negli integrali tripli, vediamo un esercizio, allora, andiamo a fare quest'integrale qua, l'integrale tra 0 e 2, l'integrale tra 0 e 2 radice di x, in y, no, non tra 0 e 2 radice di x, ma tra radice di a quadro meno x quadro, e qua ci mettiamo la radice di a quadro meno x quadro meno y quadro, e, no, no, era 0, quello era il quale esercizio di integrazione, era 0 e 2 radice di x, e qua c'è 0 e la radice di 4x quadro meno x quadro, mezzi, di x quadro meno x quadro, e qua c'è una indicazione, ci vengono già dati, però, se vogliamo cercare di capire come è fatto l'insieme, ci possiamo pure provare, allora, come è fatto questo insieme? La x la via tra 0 e 2, la y è compresa tra 0 e 2 radice di x, quindi, qua, abbiamo, questo è il punto di coordinato 2 e 2, non è radice di x, ma è 2 radice di x, facciamo un po' più qua così, questo è il più piccolo di questo, ok? e poi la z è compresa tra che cosa? Tra 0, quindi questo è x, y, la z adesso dovete immaginare un'asse che venga verso di voi, e quanto? Allora, se mi metto qua sopra y è uguale a 2 radice di x, y quadro fa 4x quadro, no, no, fa 4x, allora, 4x quadro, però, però attenzione, sì, perché, fatemi controllare, qua, 6y qua, 6y qua, vediamo un po', era 4y, infatti, qua, se mi metto là sopra, su questa cosa qui, effettivamente, viene tra 0 e 0, quindi torna, invece, se mi metto qua, allora, quindi avete un, qui, il solito è chiuso da questa parte, è un bordo del, di un pezzo della superficie del solito, qua invece, quando y è uguale a 0, questo è y, questo è x, allora, quando x è uguale a, quando, sull'asse x, y è uguale a 0, quindi viene tra 0, e, radice di 2x, quindi viene una cosa lineare così, e, che arriva, invece, quando la y è uguale, a 2, mi viene 4, per x, quando, scusate, la x è uguale a 2, viene 16, radice di 16, meno x quadro mezzi, che, per y, che varia, tra 0 e 2, radice di 2, fa, così, quindi, è un solito fatto così, avete la, la base, che è piatta, questo è piatto, questo è piatto, e ci avete, da lì, ci avete, una superficie di, una, eh, superficie, data, da z è uguale a, questa roba qua, ok, quindi, e ci dobbiamo, integrare sopra x, quindi, io cosa devo fare, devo fare, integrale tra 0 e 2, la x la posso portare, direttamente qua, perché non dipende, né dalla z, né dalla y, poi qua abbiamo, integrale tra 0 e 2, radice di x, integrale di z, di z di 1, di una costante, quindi, quanto fa? fa radice, di 4x, meno x, da 4, mezzi, e questo lo sbaglio, e qua, la sindicata, la dobbiamo qua, ok, eh, adesso, qua siamo nel piano, siamo qua, allora, vediamo un po', se, ci conviene, ci potrebbe convenire, cambiare l'ordine degli integrali, perché ci può convenire, cambiare l'ordine degli integrali, perché io adesso, se devo fare, questo integrale, devo fare una sostituzione, più complicata, eh, è vero che, questo lo posso scrivere, come integrale, di a4, meno, la radice di 1,5, lo posso scrivere, come integrale, di a4, meno y,5, perché 4x è positivo, la x vale da 0,2, ok, e, allora devo fare la sostituzione, y uguale a, coseno di t, e integrale, però, non lo so, se mi conviene, ok, se invece, io cambio la, eh, descrizione, questo lo chiamo, t, chi è t? t è l'insieme, delle x, y, tali che, y è compreso, tra 0, e, eh, 2 radice di 2, mentre, la x è compresa, tra che cosa? Tra, y quadro, quattro, e, 2, perché, voi avete l'equazione, y uguale a 2 radice di x, da questa viene, y mezzi, uguale a x, e quindi viene, eh, radice di x, e quindi viene x, uguale a y quadro, quattro, quindi, vedete, la x è compresa, tra y quadro, quarti, e 2, quindi, io posso scrivere, che qua, ho un'integrata, tra 0 e 2, radice di 2, in d y, per l'integrata, tra, y quadro, quarti, e 2, e qua, ci devo mettere, x, radice di, 4x, meno y, quadro, mezzi, in dx, stavolta, allora, comunque, poi, allora, per controllo, questa è una cosa, ottima, per controllo, nel senso, che, eh, una volta fatto, questo integrale, eh, volendo controllarlo, potete provare a fare, l'integrare direttamente, senza cambiare, l'ordine di integrazione, e vedere, che i risultati, venivano lo stesso, ovviamente, in quel caso, avete controllato, che la cosa, sia corretta, qua in voi, se abbiamo, se abbiamo fatto, nell'orecchio, in voi, senza, eh, allora, qui, cosa ci conviene fare, ci conviene fare, la posizione, radice di, 4x, meno y quadro, mezzi, uguali, t, quindi, eh, 4x, meno y quadro, mezzi, uguali, t quadro, quindi, 4x, uguale, y quadro, più, 2, t quadro, quindi, x, uguale, y quadro, più, 2, t quadro, quarti, quindi, dx, uguale, siccome, eh, diciamo, stiamo cambiando la, la x, eh, nella t, questo è, y per noi è un parametro, quindi, dx, è uguale a t dt, ok? Quindi, eh, qui che cosa abbiamo? Abbiamo, l'integrale tra 0 e 2, radica di 2, di y, dell'integrale, allora, quando la x, vale, se la x vale y quadro quarti, eh, la t vale 0, quindi, x è uguale a t quadro quarti, se, solo se, t è uguale a 0, perché, sostisco, y quadro, e y quadro, se ne va, e altro, quando la x, invece, viene 2, eh, questo mi dice, che, 2, che è 4, che fa 8, deve essere uguale, y quadro, deve essere uguale, y quadro, più 2, t quadro, quindi, eh, t quadro, deve essere uguale a, qua, a 8, meno y quadro, mezzi, ah, la x è uguale a, eh, 2, no, sì, però, 2 per 4 fa 8, quindi, 2 uguale a quello là, vuol dire che 8 è uguale a questo, e quindi, vuol dire che t, deve essere uguale a, più o meno, la radice di, 8, meno y quadro, mezzi, allora, la t però deve essere positiva, e la t è compresa tra 0 e 2 radica al 2, quindi dobbiamo avere questo, quindi qua abbiamo tra 0, e, radice di 8, meno y quadro, mezzi, e adesso dobbiamo fare il punto, perché la x era, y quadro, più 2, t quadro, fratto, 4, poi, tutta quella radice l'abbiamo chiamata t, e poi c'era dx, che era t, quindi, andando a proseguire, andando a proseguire, qua mi viene l'integrare, tra 0 e 2 radica al 2, di che cosa? qua mi viene y quadro, quarti, per, t cubo terzi, più, sarebbe un mezzo t alla quarta, quindi viene un decimo, t alla quinta, tutto valutato tra, 0 e questa radice, e allora, e allora, qua mi viene l'integrale, tra 0 e 2 radica al 2, y quadro, dodicesimo, per 8, meno y quadro, mezzi, alla, tre mezzi, più, più, un decimo, per, 8 meno y quadro, mezzi, per 8 meno y quadro, mezzi, alla tre mezzi, per, sì, 5 meno y quadro, 5 meno y quadro, no, mi ha portato fuori 1, quindi, ho fatto 3 e mezzo, perché così, voglio mettere in evidenza, e quindi, qua abbiamo, l'integrale tra 0 e, 2, radica al 2, non è che è bello, è bellissimo, quindi, ho fatto, due suoi fatti, ho fatto qualche errore, oppure, magari, nell'altro modo, si identificava di più, oppure, niente, magari è giusto così, allora, il mio comune multico, tra 12 e, 10 e 60, quindi, qua abbiamo, tra 12 e 20 e 60, quindi abbiamo, 5y quadro, più, 3 per 8, 24, meno 3y quadro, che moltiplica, 8, meno y quadro, mezzi, alla premessa, in, y, e vabbè, comunque, non abbiamo risolto, cioè, in ogni caso, nostra sostituzione, dobbiamo fare, y, uguale, radice di 8, per sin, di t, e poi, questo, ve lo potete, completare, questa, questa è una, vediamo che ore, sonda, che hanno detto, e allora, si, finiamo qua, questo, lo completate voi, ricontrollate, fatelo, completate questo, fatelo anche, nell'altro ordine, questo tipo, quando si può fare, in due modi diversi, in genere, poi si può controllare, agevolmente, perché,